Adriana, oggi è il primo giorno della settimana della misericordia, si è in movimento, siamo la casa di riposo, ecco perché siete o meglio siamo qui? Oggi è il primo giorno, la prima tappa è la casa di riposo, siamo venuti a fare visite anziani anche perché il nostro progetto è Nonni Felici. Siamo venuti, siamo una serie di ragazzi, più del servizio civile, siamo all'incirca dieci, quindici. Salutate ragazzi, salutate. Buongiorno. Annino la greca, ecco non vuole parlare perché è diventato molto tutto in un momento. Allora Stefania, la tua esperienza qui alla misericordia, cosa puoi dire? Io ho avuto poche esperienze con loro, anche se è dato a me che sono iscritta, però sono sempre belle esperienze quelle che facciamo insieme a loro.